allora come sta andando con i dolori? ho dei dolori ma ti svegli anche la notte per i dolori? si soprattutto quelli articolari senti invece di corpo stai andando regolarmente o hai diarrea? diarrea quindi hai difficoltà di andare a scuola? riesci ad andare a scuola? si sto un po' male quindi la mattina tendenzialmente stai male? senti ti vuoi mettere sdraiata così ti comincio a visitare mentre parliamo? quindi il dolore ce l'hai soprattutto a destra? è forte? si è così se ti tocco fa più male? si senti il dolore si associa di solito alla diarrea oppure indipendente? indipendente e ce l'hai sia di giorno che di notte? si più di notte e i dolori articolari pure di notte? si soprattutto alle gambe